Ehi, ciao amici di Più o Meno Pop! Nome vero, nome d'arte, nome del tuo animale domestico? Nicolto Adite, caramo Afro Collective, ma laica. Dove stai rossando questa quarantena? A casa. Sei in compagnia? Sì. Sì, sì, chi ucciderà prima chi? Io, te. Se no, hai già dato un nome al tuo amico immaginario? No, niente amici immaginari ancora. La cosa più strana che hai fatto in questa quarantena? Fare amicizia con i vicini. La cosa più strana che hai fatto nella vita? Non ci vuol dire. La canzone che stai ascoltando, cantando, suonando di più in questi giorni? Piazza Grande di Lucio Dalla. Il tuo piatto preferito? Pasta colpetto. Chi andai a trovare finita la quarantena? Tua mamma. Qual è la prima parola che ti viene in mente e ti diciamo musica? Libertà. Ringraziaci in modo spontaneo e incondizionato. Grazie, grazie mille! Grazie mille!